Ma dov'è che stanno andando? All'interno è che stanno andando là Invece all'inizio dove erano? Lì, dove c'è il cubo? Dove c'è? Ah, qui Praticamente dove c'è quel cubo, dove c'è il neon Avevano preso mezzo neon Tutto fin sotto Ma un po' ci sono ancora Sì, sì, ci sono ancora Sì, ma prima era proprio una roba Ma vabbè, tutto fin sotto Vabbè, la portava via manante Sì, ma qui esce Prende la portava via manante All'inferno è un po' di più